PIM BUM BAM! PIM BUM BAM! Raccogli i punti Pigna Quaxima! I Megasaurus Expander da Rocco Giocattoli! Stanno arrivando! Bianchetto Coplex più colla e gomma. Correggi, incolla e cancella a sole 4.500 lire. Dall'Ebez. E allora? Non ci entro! Non ci entro! Ci sono entrato grande! Vai! Ehi bella gente! Con lo zaino Gabibbo entra a scuola al divertimento! C'è anche l'astuccio! Il diario, i quaderni e il blocco a libri per tenere fermi i libri! Gabibbo da Seven Junior! Il tuo primo Seven! E con lo zaino il marsupio da polso! Con la collanina o lo yo-yo! A Nemu! Che mi hai portato di bello papà? Un frigo, una lavastoviglie, una lavatrice, un forno e anche un micro-ondez! E' la nuova Nouvelle Susie! La lavastoviglie! Un super frigo all'americana! La lavatrice e il forno per tante golosità! Nouvelle Cuisine! E' un gioco grand soleil! Roller! Roller! In fuoristrada! Roller! E' Roller fuoristrada! Vedrai chi superà! Perché soltanto Roller le ruote grandi ha! Roller! Roller in fuoristrada! Vai dove vuoi con Roller! Passeggino e carrozzina sono un gioco grand soleil! Yeah! Gioco! Sì, cioccolosi! Yeah! Croccano con l'orso i bambini più golosi! Mmm! Cioccolato! Sì! Cioccos di Kellogg's! L'allegra colazione ciocco croccolosa! Dammi un cinque! Sì! Venite a vedere la finale dei campioni! E lì sul grande schermi veri Kellogg's Ciocco Crispies! Tanto cioccolato e energia tutti dà! La squadra della giungla nessuno batterà! Ciocco Crispies di Kellogg's! Imbattibile super cioccolato! Ingegneroski! L'incredibile giocoski! Monta i pezzoski con il cacciavitoski! Attacca le ruotoski e diventi ingegneroski! Caspitoski! Aerei, gru, camion, moto! Costruisci ciò che vuoi con Ingegneroski! Ingegneroski! Da General Trade! Zaini, bim, bim, bim! Da Seven Junior! Il tuo primo Seven! Go to catch a moon! Lo zaino di Pokémon è l'unico con il nuovo schienale traspirante Biomechanic e il Porta Game Boy! Diario, quaderni e tutta la scuola di Pokémon originale la trovi solo nei migliori negozi e nelle cartolerie! Go to catch a moon! Giochi preziosi! L'originale! Un cielo blu! Rivela la tua vera potenza! Con lo zaino di Sakura e il suo nuovo schienale traspirante Biomechanic! Scopri il peso delle formule magiche e in tutti gli zaini trovi subito l'invincibile Sakura! Giochi preziosi! Biompa! Biompa!